Gli imbianti sportivi di Agrigento sono nella maggior parte degradati ed inutilizzabili. Pensiamo al campo di calcio di Villaggio Mosè, al campo di rugby di Villaseta, al campo di Giardina Gallotti. Occorre una seria politica di riqualificazione di questi per permettere la pratica sportiva ai nostri ragazzi. In questo contesto il Comune deve intervenire calmerando le tariffe, però affidando anche a privati la gestione di questi impianti sportivi per renderli fruibili. Piero Marchetta sostiene il sindaco Lobello.